Un accordo è stato firmato dal Comune della Camera di Commercio di Pescara per definire una collaborazione tra i due enti finalizzato allo scambio di informazioni a beneficio dell'Ufficio Tributi di Palazzo di Città. A firmare l'intesa sono stati il Sindaco Luigi Albore Mascia e il Presidente della Camera di Commercio Daniele Becci. Abbiamo avvertito la necessità da parte del Servizio Tributi di accedere ai dati del Registro delle Imprese dell'Ente Camerale, ha spiegato il Sindaco e grazie a questo accordo sarà possibile farlo. Sul portale della Camera di Commercio, appena rinnovato, i cittadini e le imprese avranno invece la possibilità di attivare un contatto con il Comune che risponderà in tempi rapidi. Quest'operazione serve tra l'altro a ridurre gli accessi fisici agli uffici, ha concluso il primo cittadino. Dopo l'attivazione del nuovo portale, sottolineato Becci, l'accordo rappresenta il secondo step per potenziare il ricorso delle aziende alla rete. Grazie a questa intesa va avanti la nostra guerra contro gli aspetti più negativi della burocrazia e sarà anche possibile fare emergere chi non paga scoprendo i furbi. Il portale della Camera di Commercio si